Ciao ragazzi, in questo video proseguiamo il discorso sui sistemi lineari che abbiamo cominciato nel video precedente, dando un'occhiata ad un altro metodo che possiamo utilizzare per risolverli, noto come metodo di Kramer, e vedendo poi come possiamo fare a risolvere dei sistemi di tre equazioni in tre incognite. Prima di occuparci di questo vale però la pena fare una premessa che può esservi molto utile in alcune situazioni. L'idea è che ci sono alcuni sistemi che pur non essendo lineari possono essere ricondotti a dei sistemi lineari tramite delle opportune sostituzioni. E per capire meglio che cosa intendo diamo subito un'occhiata a questo esempio dove vedete abbiamo 1 su x più 4 su y uguale a 3 al sistema con 7 su x meno 4 su y uguale a 5. È chiaro che questo non è un sistema lineare perché per esserlo ricordo entrambe le equazioni dovrebbero essere di primo grado rispetto a ciascuna delle variabili. Però notate che qui abbiamo un 1 su x che ci ricompare anche nell'equazione di sotto moltiplicato per 7, infatti potete pensare a questo 7 fratto x come a 7 per 1 su x e poi l'1 su y che abbiamo qui sopra moltiplicato per 4 ce lo ritroviamo anche nell'equazione di sotto. Possiamo quindi semplificarci la vita chiamando 1 su x ad esempio t ed 1 su y non ad esempio s e facendo quindi il seguente cambio di variabile. In questo modo vedete il sistema che in partenza non era lineare si trasforma in questo sistema lineare che è decisamente più facile da risolvere. Se infatti applichiamo ad esempio il metodo di riduzione vedete che sommando semplicemente membro a membro le due equazioni si indicava subito che 8t è uguale ad 8 e quindi che t è uguale ad 1. E una volta appurato che t è 1 ci basta a questo punto andare a sostituirlo in una qualsiasi delle due equazioni del sistema per esempio nella prima per ricavare dopo un passaggio che s deve essere uguale a un mezzo. Da qui in poi le cose sono semplici perché se t è uguale ad 1 significa che 1 su x è uguale ad 1 alla luce della nostra sostituzione e da questo si ricava subito che x deve essere 1 e allo stesso modo se s è uguale a un mezzo significa che 1 su y deve essere un mezzo e quindi che y deve essere 2. Come vedremo nel prossimo video questa non è l'unica strategia per risolvere un sistema di questo tipo però è sicuramente quella più semplice e veloce. Qui sotto vi ho riportato un altro paio di esempi di sistemi riconducibili a lineari tramite delle opportune sostituzioni e vi consiglio ogni qual volta vi troviate in situazioni simili a queste di procedere con le sostituzioni e di trasformare il vostro sistema se potete in un sistema lineare perché veramente le cose diventano non solo più semplici ma anche più veloci. Appurato questo vediamo adesso come funziona il metodo di Kramer che è un altro metodo che si utilizza per risolvere i sistemi lineari. Per capire come utilizzarlo vi ho riportato qui lo stesso sistema che abbiamo già risolto nel video precedente con il metodo di sostituzione ed il metodo di deduzione in modo che possiate poi confrontare le varie strategie risolutive. La prima cosa da fare se si decide di procedere con il metodo di Kramer è realizzare le tre matrici che vedete qui. Per chi non avesse familiarità con il termine per matrice ed in particolare in questo caso per matrice 2x2 visto che il sistema è fatto di due equazioni in due incognite intendiamo semplicemente un insieme ordinato in questo caso di quattro numeri disposti su due righe e due colonne. Come vedete realizzare le tre matrici è abbastanza semplice. Nel caso della prima ci basta infatti mettere nelle due colonne rispettivamente i coefficienti delle x e i coefficienti delle y. La seconda si ottiene poi a partire dalla prima andando a sostituire al posto della colonna dei coefficienti delle x la colonna dei termini noti che sono nel nostro caso 8 e meno 2 e poi la terza si ottiene anch'essa a partire dalla prima sostituendo questa volta al posto della colonna delle y la colonna dei termini noti. La seconda cosa da fare è calcolarsi a questo punto i determinanti delle tre matrici che abbiamo ottenuto e per determinante nel caso di una matrice 2x2 si intende semplicemente quel numero ottenuto facendo il prodotto dei due termini sulla diagonale principale a cui va tolto il prodotto dei due termini sulla diagonale secondaria. Il determinante della prima matrice che ho indicato con la lettera D si otterrà quindi moltiplicando 2x-3 e togliendo poi 4x3 e vedete che se fate il conto viene meno 18. Per trovare quello della seconda matrice dovremmo invece fare 8x-3 e poi togliergli meno 2x3 e se fate il conto vedete viene nuovamente meno 18 mentre per quanto riguarda la terza matrice dovremmo fare 2x-2 e poi togliergli 4x8 e stavolta otteniamo meno 36. Notate che come si fa di solito ho indicato con dx il determinante della seconda matrice e questo perché nella seconda matrice manca la colonna con i coefficienti delle x e analogamente ho indicato con dy il determinante della terza matrice perché lì manca la colonna con i coefficienti delle y. A questo punto una volta noti i determinanti per trovare le soluzioni si fa così. Per trovare il valore di x basta fare dx fratto d dunque nel nostro caso meno 18 fratto meno 18 che fa 1 e analogamente per trovare il valore di y basta fare dy fratto d nel nostro caso quindi meno 36 fratto meno 18 che fa 2 e vedete che ritroviamo quindi la stessa soluzione che avevamo già ricavato con il metodo di sostituzione e il metodo di deduzione. Ma naturalmente in generale non è detto che il sistema abbia delle soluzioni e infatti se ci pensate bene quest'ultimo passaggio noi non avremmo potuto farlo nel caso in cui il nostro determinante d fosse venuto uguale a 0 altrimenti qui avremmo avuto delle divisioni per 0. Più in generale si può dimostrare che se d è diverso da 0 allora il sistema è determinato e ha per soluzioni x uguale a dx fratto d ed y uguale a dy fratto d ed è esattamente quello che succede qui nel nostro esempio. Se invece di è uguale a 0 e dx oppure dy sono diversi da 0 allora il sistema è impossibile nel senso che non ammette soluzioni. Mentre se sia di che di x che di y sono tutti uguali a 0 allora il sistema è indeterminato ed ammette infinite soluzioni. Dei tre metodi che abbiamo visto finora per risolvere sistemi lineari di due equazioni in due incognite quello di Kramer è probabilmente quello un po' meno intuitivo da utilizzare un po' più scomodo se volete però è di grande importanza teorica perché ci fornisce un'espressione esplicita delle soluzioni del sistema e torna poi molto utile nel risolvere quei sistemi di equazioni letterali che richiedono una discussione delle soluzioni al variare del valore del parametro o dei parametri presenti. Magari vedremo un esempio di sistema di questo tipo più avanti. L'ultima cosa che volevo dirvi è che molte delle considerazioni delle strategie che abbiamo visto fin qui per risolvere i sistemi di due equazioni in due incognite come ad esempio il metodo di sostituzione o il metodo di deduzione restano valide e si possono riadattare facilmente anche al caso di sistemi di tre equazioni in tre incognite e per convincervi di questo prendiamo ad esempio questo sistema e proviamo a risolvercelo che ne so per sostituzione. Per fare questo potrei ad esempio procedere così. Prendo una delle tre equazioni tipo la prima e mi ricavo una delle mie tre incognite per esempio la x e una volta che ce l'ho ricavata vado a sostituirla all'interno delle altre due equazioni. Ora salto qualche passaggio perché ormai sul metodo di sostituzione siete esperti ma se provate è facile convincersi che si arriva subito da queste parti e quindi vedete che le altre due equazioni nel momento in cui noi abbiamo sostituito la x sono diventate a questo punto una specie di sistema di due equazioni in due incognite. E se ce lo risolviamo e per fare questo possiamo naturalmente procedere di nuovo per sostituzione o volendo utilizzare a questo punto Cramer o la riduzione come preferite si conclude facilmente che y è uguale ad 1 e che z è uguale a 2 e per vincere non ci resta che andare a recuperare la prima equazione che avevamo usato all'inizio per fare la sostituzione andare a sostituire al posto di x e y i valori che abbiamo appena trovato e si conclude che x è uguale a 0. Dunque la terna ordinata 0 1 2 è la soluzione del nostro sistema. Detto questo ragazzi io ho terminato fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi fossero rimaste delle domande. Nel prossimo video parleremo di sistemi di secondo grado e sistemi simmetrici. Io per il momento vi saluto come sempre se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere mi piace passate a trovarci sulla pagina facebook e date un' all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video.